Due nuove linee di navette a partire da settembre per collegare i quartieri della città all'area del San Decenzio il martedì mattina. 4.000 shopper brandizzate made in Pesaro e la proposta di organizzare eventi culinari e non solo. Sono queste le iniziative illustrate questa mattina dall'amministrazione comunale e da Confesercenti Pesaro Urbino per potenziare il mercato cittadino del San Decenzio e valorizzare i suoi circa 300 espositori dopo i difficili mesi della pandemia. Come sono state promosse altre vie o altre zone di Pesaro era giusto promuovere il mercato di Pesaro che è uno dei più grandi del centro Italia e quindi in questo modo vogliamo regalare ai cittadini che si recano al mercato delle buste ecosostenibili sapendo che anche al mercato stesso ci sono degli agricoltori che lavorano col chilometro zero. Un'altra cosa che faremo come promozione del mercato sarà la navetta che partirà da settembre sempre tutto concordato con Confesercenti che ci è stata vicina anche durante il lockdown abbiamo sempre lavorato insieme, ci siamo confrontati, abbiamo fatto dei tavoli di lavoro e devo dire che anche gli ambulanti sono stati molto attenti alle loro attività ma anche alla tutela dei cittadini. Le linee saranno due, la principale sarà quella che raccoglierà i quartieri che comunque fanno più fatica ad arrivare al mercato quindi partiamo da Villa San Martino, poi faremo tutto il giro di Via del Novecento, tutto il quartiere della Celletta che raccoglie anche tante persone, quindi sono i quartieri più popolosi di Pesaro e abbiamo analizzato un pochino i flussi al mercato, effettivamente quei quartieri lì sono quelli che comunque hanno più difficoltà ad accedere per cui con l'avvento della navetta quella linea lì dovrebbe funzionare molto bene un'altra invece prenderà la via del mare, quindi farà più i quartieri più vicini alla costa anche quelli fino ad arrivare come capolinea lì. È ovvio, si tratterà innanzitutto da settembre in poi un po' di fare la tara di queste linee e vedremo se funzionano, quanto funzionano e se sarà necessaria qualche correzione nel senso di toccare altri quartieri e quello lo faremo volentieri, vediamo come va. Sul fronte viabilità e nello specifico sul tema della realizzazione dei nuovi parcheggi attesi per l'area del mercato l'assessore Belloni ha riferito che la scorsa settimana si è tenuto un nuovo incontro tra i tecnici comunali e quelli della ditta incaricata del progetto. L'autorizzazione urbanistica è stata ritirata ed è atteso nell'arco di qualche settimana un cronoprogramma preciso dei lavori che potrebbero prendere il via già al termine dell'estate. Nel frattempo però rimangono attivi gli stalli con disco orario presenti all'interno del San Decenzio. All'interno del mercato, quindi non bisogna neanche fare un metro in più abbiamo più di 100 parcheggi assolutamente liberi, gratuiti, con disco orario di 90 minuti quindi un'ora e mezza si fa comodamente il giro al mercato possiamo fare in tutta tranquillità, serenità la nostra spesa e utilizziamolo, viene veramente poco utilizzato, ancora sottutilizzato. Tra le novità e le iniziative in programma per il mercato San Decenzio anche l'organizzazione di eventi. Abbiamo in mente di fare degli eventi culinari, adesso sentiamo qualche azienda anche a chilometro zero che magari viene a sponsorizzare i suoi prodotti all'interno del mercato per qualche ora, in modo che per far conoscere i propri prodotti e per attirare la gente perché comunque gli eventi culinari tirano sempre, fanno venire sempre abbastanza gente quindi penso sia una cosa positiva sia per l'azienda che viene sia per l'indotto del mercato. Le prime settimane estive di mercato come sta andando dopo i mesi di pandemia? Abbastanza bene, anche questa mattina c'era abbastanza gente dopo il discorso se spendono o non spendono, quello purtroppo la crisi post pandemia ha colpito tutti però comunque la gente ha voglia di venire a fare un giro all'aria aperta, a parlare, a fermarsi comunque riprendere la vita di prima, cosa che la pandemia ha congelato. L'attenzione è puntata anche sull'organizzazione della Fiera di San Nicola, attualmente confermata per settembre. Sì, ci sarà la Fiera di San Nicola, stiamo organizzando, è chiaro che sperando che la situazione rimanga nelle condizioni che sono oggi e quindi ci sarà anche la Fiera di San Nicola.